Vieni, guarda ora che sta arrivando, sei seduto, stai, aspetta, bravo, buongiorno Gohan, buona colazione, via, mangi, vai! Stiamo assistendo in diretta la colazione di Gohan, Gohan è tranquillo, mangia beato, perché gli piace ciò che sto mangiando, perché dentro c'è anche la pesa di tacchino, che Gohan, il birichino, gli piace molto, vi auguro a tutti una buona giornata, dal vostro caro amico Gohan e dal vostro caro amico Giacomo, condividete, mettete un bel like se vi piace e passate parola, grazie, buona giornata a tutti!